La drinazione la scorsa notte presso l'impianto sportivo Raffaele Guariglia di Agropoli. I noti malfattori messi a soquadro depositi e sede della segreteria della locale squadra di atletica hanno trafugato un defibrillatore, due notebook e impianti audio, abbigliamento sportivo, hardware e cavetteria ricomprati con tanti sacrifici dalla società sportiva dopo il furto avvenuto lo scorso settembre. I balordi hanno danneggiato anche i magazzini della squadra di calcio dell'Agropoli distruggendo quasi tutte le serrature degli spogliatoi, oggetto di razzia per un danno economico e morale importante. Abbiamo allertato le forze dell'ordine speranzose che gli autori di questo ennesimo danno a noi e a tutta la comunità agropolese non, l'atletica Agropoli e tra le sue fila atleti, ragazzini e bambini provenienti da tutto il Cilento vengano presto affidati alla giustizia, ha commentato il presidente Angelo Palmieri. A pagare le spese maggiori sono state la nostra società e l'atletica Agropoli, massima solidarietà ai ragazzi colpiti come noi dal danno materiale dopo i tanti sacrifici fatti per portare avanti lo sport, qualsiasi esso sia nella città di Agropoli. Questo è il messaggio della società del patron Carmelo Infante.